Sono una persona appassionata su questo argomento, sulla Shoah, su tutta la seconda guerra mondiale. Mi definisco una persona curiosa. Ho fatto una domanda al professore sul perché proprio gli ebrei, che avevano già fatto, ma comunque tra tutte le culture ci ha ricavato che è semplice dare le colpe, ma è difficile prendersi le proprie responsabilità. Quindi, non so, la mia opinione su questa giornata, questo tempo passato ad ascoltare la signora e il professore, devo dire che non sono stati per niente uno spreco di tempo e che è stato molto utile per me.